Al troppiano potrebbe sembrare una partita facile contro l'ultima classifica, però la regala di Abdelazizio è assente, però avete avviato a questa senza giocando al meglio, coinvolgendo un po' tutti i vari attaccanti, una partita giocata bene di squadra, un 3-0 importante che viene lì in zona proposta. Per noi era una partita determinante, come hai detto bene tu, eravamo consci del fatto che Soria è una squadra che gioca bene a pallavolo, quindi bisognava fare una partita aggressiva. Abbiamo visto il primo set che è stato combattuto, anzi eravamo sotto sia nella prima parte del set che anche nella seconda parte, poi siamo riusciti a fare quei punti che ci hanno permesso di andare a vincere. Senza arrivare ai vantaggi, quindi sono tre punti importanti in un palazzetto dove sicuramente Soria ha dato fastidio e potrà dare fastidio nell'ultima partita di campionato. Una stagione particolare per voi, con tanti infortuni, però è stato avviando al meglio, gli risultati si vedono, l'obiettivo è lì, è stata una stagione sicuramente sfortunata dal punto di vista degli infortuni. Quello non c'è, non c'è ombra di dubbio. L'unica cosa che potevamo fare, che abbiamo fatto tutti insieme, era adattarci, quindi non stare lì a pensare a come, ma se, ma di qua, ma di là. Adattarsi e lavorare con le forze che si avevano e sfruttarle al massimo. Secondo me è stato un periodo molto importante, questo ultimo che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto dei risultati importanti, abbiamo giocato le partite utili, proprio per creare un'amalgama di squadra ancora migliore, appunto anche per quando rientrerà Nimir, che è sicuramente un giocatore che è molto, molto importante per noi. Prego, ciao a tutti.